Questa settimana abbiamo giocato a 5 titoli diversi e vi parliamo di titoli specifici per sfide testa a testa Ciao a tutti giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo i Giullari e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda come ogni venerdì per raccontarvi tutto ciò che abbiamo giocato la settimana per noi appena trascorsa o quasi E come sempre se siamo qui e soprattutto grazie al vostro supporto che ci lasciate un sacco di like, di commenti, siete sempre di più iscritti al nostro canale Noi siamo felicissimi e grazie anche e soprattutto a tutti coloro che ci supportano su Patreon perché davvero se riusciamo a fare tutto quello che facciamo Tra 4 video alla settimana qua su Youtube, almeno 2, 3, 4 live su Twitch anche dove siamo sempre live Praticamente quindi seguiteci anche lì perché avete la possibilità di essere direttamente a contatto con noi e non così registrati come siamo qua su Youtube fondamentalmente Tutti i nostri social grazie, siete tantissimi, grazie a tutti Patreon, grazie a tutti davvero vi aspettiamo ovunque per stare sempre di più con voi perché ci piace stare con voi, grazie E per la gioia della mia amica Erika questo vlog sarà molto particolare perché lei mi ha scritto espressamente che vorrebbe che i vlog durassero dall'ora in mezzo in su Che parlassimo di sì perché dobbiamo tenere le compagnie da quando Se Erika vuoi montarli tu i video nessun problema Finché li monto io chiedo a Vale di stringere il più possibile Perché la rilassano, le tiene un compagno mentre torna dal lavoro Però ahimè, ahimè questo vlog sarà nuovamente breve perché abbiamo giocato 5 titoli Sono 5 titoli di cui non vi abbiamo ancora parlato ma vi possiamo parlare solo di 2 Di cui non vi parliamo perché siamo brutti e cattivi Allora sei bastardo Perché degli altri 3 giochi non ve ne possiamo ancora parlare però vi diciamo quali sono stati questi giochi Non è che non ve ne possiamo ancora parlare Ve ne parleremo più avanti Ve ne parleremo di alcuni anche molto breve, semplicemente sono dei giochi legati a delle sponsorizzazioni Quindi abbiamo delle date di uscita poi anche fisica di questi giochi che sarà più avanti E quindi ve ne parliamo quando li trovate banalmente quello Cioè parlarvene troppo prima poi ve li dimenticate e per dell'efficacia Però vi diciamo quali sono questi 3 giochi perché siamo bravi Sono One Small Step, Anunnaki e Micro City Quindi presto ve ne parliamo, restate connessi e se non l'avete fatto iscrivetevi così non vi parlate E attivate la campanella Non vi perderete il diario in cui ne parleremo ma iniziamo parlandovi di Arena Roma 2 Titolo osceno secondo me che fa tanto titolo da Cile panettone Cile panettone, vacanze di Natale 5 Vacanze di Natale 2 Vabbè comunque Natale al cesso A parte questa cosa perché questo 2 è perché esiste anche un Roma Non senza Arena davanti Roma In realtà in tedesco è rivolta in Roma e poi hanno fatto Roma In tedesco è rivolta in Roma Revolta in Roma nel senso Puramente tedesco L'ho italianizzato Perché Roma e Roma 2 sono fondamentalmente lo stesso gioco Ok? Tutti i due giochi di Feld Sono due giochi combinabili tra di loro volendo O comunque giocabili ognuno dei due stand alone Ma la meccanica di base è sempre la stessa In Roma 2 che noi preferiamo un po' rispetto a Roma 1 Hanno aggiunto un paio di cosine e soprattutto hanno cambiato un pochino l'approccio al gioco A noi lo fa preferire leggermente Ma in entrambi i giochi ognuno di noi avrà una mano di carte Carte che noi potremmo giocare davanti a noi pagando nel costo Ognuna di queste carte ci darà un'abilità Alcuni saranno edifici Alcuni saranno dei personaggi Ci daranno le loro abilità Che potranno essere legate o al guadagnare soldi O al giocare nuove carte O soprattutto all'attaccare carte del nostro avversario E noi per poter attivare le carte che giochiamo davanti a noi Quando le giochiamo le mettiamo in una posizione Che corrisponde a un valore di dado da 1 a 6 All'inizio del nostro turno lanciamo 3 dadi Con i quali possiamo attivare le carte che già abbiamo schierato Oppure possiamo andare a guadagnare soldi Oppure pescare nuove carte per poter rimanere in partita Questo perché noi vinceremo O nel momento in cui nella riserva non ci sono più punti E siamo il giocatore che ha più punti vittoria Oppure se riusciamo a far perdere tutti i punti al nostro avversario E come gli facciamo perdere punti? Attaccandogli le carte Quindi uccidendo i personaggi e distruggendogli gli edifici Perché all'inizio del nostro turno Per ogni spazio vuoto che abbiamo davanti a noi Quindi carte che l'altro giocatore nel suo turno ci ha buttato giù Noi perdiamo dei punti E la differenza tra Roma e Roma 2 Sta proprio in questi due modi di vincere la partita E quindi questi due approcci al gioco Se in Roma ci sono più carte E comunque il gioco è più portato al farti guadagnare punti In Roma 2 il gioco è un po' più portato Invece all'attaccare l'avversario Hai più effetti banalmente nelle carte Che ti permettono di attaccare l'avversario E quindi giochi un po' più a portare l'altro ad avere 0 punti vittoria E come sapete a noi piacciono molto i giochi In cui c'è tanta più interazione tra i giocatori Ed ecco perché preferiamo Roma 2 La bellezza di avergli tutti e due è che in base allo stato d'animo Uno sceglie se giocare uno all'altro Se io sono arrabbiata con Albi Prendiamo il 2 Perché è cattivissimo Tu magari davvero nel giro di 3 round 4 round Rischi di essere fuori partita Perché se l'altro si crea il motore Tu magari poi In realtà i dadi non è che c'è Ti influenzano il gioco perché ti vai attivare Però magari ti vai a usare l'azione per pescarti carte Quindi scegliere Avrai la possibilità di scegliere carte E vedere quella che può più formare all'altro Quindi hai modo di contrastare l'altro Viene bilanciato Sì a parte un paio di carte Non hai così tanto la possibilità di sceglierti tu il valore di dado Che più ti interessa Però in realtà non è così impattante Sì no ma poi non è che ti blocchi Perché se io ho le carte sul 5, il 2, l'1 E non mi esce nessuno di quel numero Però lo posso usare proprio nelle mie monete Per fare l'azione Per giocare la carta Magari mi giochi una carta sul 3 Che poi attivo immediatamente in quel turno Perché ho il 3 Però è un gioco veramente che ci piace tanto Sul camper quando siamo in vacanza Ce lo portiamo sempre Anche perché è molto compatto Occupa poco spazio Sono fondamentalmente solo carte Tre dadi e qualche moneta E qualche punto vittoria Ma è molto easy Tra l'altro abbiamo perso uno dei segnalini punti vittoria Sul camper Lo sappiamo di averlo perso sul camper Ma non è mai più saltato qua Però vabbè Avendo le due scatole Lo prendiamo dall'una e dall'altra E volendo i due giochi come dicevo Possono essere combinati O facendo un unico mega mazzone In cui appunto hai più carte E mescoli i due giochi Oppure si può anche giocare Che un giocatore gioca con le carte di Roma 1 E un giocatore gioca con le carte di Roma 2 E in questo modo E quindi anche un po' più Questa asimmetria Ancora un pochino più marcata Nelle tipologie di carte Che il giocatore ha Non esiste in italiano Il gioco Tra l'altro Roma il primo Più vecchio È più difficile da trovare Forse Più che altro Se lo trovate Lo trovate solo in tedesco Come ce l'abbiamo noi Ma online Trovate le traduzioni delle carte Che non erano precisissime Alcune Però Diciamo se Un minimo Ci ragionate Ci potete arrivare E invece Roma 2 Lo si trova più facilmente Anche in inglese Perché era uscito in multilingua E quindi È più facile trovare l'inglese Con anche il regolamento In italiano All'interno All'interno della scatola Giochi un po' vecchiotti Uno dei primissimi Giochi di Feld Però A noi poi Feld piace Questo è Si vede che è un gioco Appunto Dei primi giochi Però si vede comunque Che è un gioco Di Feld E a noi A noi piace È anche molto veloce È molto facile Sì fai anche una partita Italiana Fai prima il 2 Poi l'1 Poi li mischi Esatto Poi fai la vincita La bella La bella della bella È sempre È sempre molto molto piacevole È sempre un piacere Abbiamo poi giocato A Monkey Finalmente Anche nelle nostre mani Questo gioco di Playa Game L'ultimo della serie Perché noi li abbiamo Tutti quanti Ci mancava Monkey Adesso abbiamo Monkey A completare Quella che è la nostra serie Dove come per tutti Gli altri giochi Della serie I materiali Sono bellissimi Cioè ci sono Questi due oranghi Che sono stupendi E poi ci rappresentano Abbastanza bene Perché c'è Quello col ciuffo Sempre spettinato Sempre spettinato Come ho detto E l'altro Un po' Gobo Con la trippa Pacciotto Con la trippa Carino Tenero Simpatico Che ti trasmette Gioia Serenità E paciosità Quello con la trippa Diciamo Diciamo la vera E quindi Ci troviamo appunto In questa giungla È un gioco per due Giocatori Come tutti i giochi Come tutti i giochi Della serie E quindi dobbiamo Proclamarci re E come facciamo Andiamo Nelle rovine del tempio Attorno alle statue A raccogliere frutta Da queste giare E la frutta È quella che ci permetterà Poi di vincere Quindi o quella dorata O quella del colore verde E blu Chi riesce a fare prima Questa cosa Diventa il re Abbiamo detto Giochi di questa serie Ma non abbiamo detto Quale serie Ma dando per scondendo Lo poteste sapere Ma in realtà Sono questa serie Che state vedendo Anche in sovraimpressione Con l'immagine Che spero di trovare Quando monterò il video Con tutti i giochi Della serie Massimo faccio la foto Della nostra libreria Quindi Jurassic Snack Jurassic Branch Little Big Fish Ice Team E Mosquito Show Sono tutti titoli Che a noi sono Sempre piaciuti Alcuni più di altri Mosquito Show E continua a rimanere Il mio preferito Di questa serie E mi piace molto Anche Little Big Fish Per quanto è Forse è passato Un pochino più In sottotraccia Questo è Un po' più semplice Sicuramente Si colloca forse Tra i più semplici Forse Assieme a Ice Team È forse Il più semplice Proprio a livello di regole Proprio perché Il movimento È molto libero È molto semplice Mi muovo Nella direzione Che voglio Di quante caselle voglio E poi raccolgo E poi raccolgo Dalle giare Che ho attorno a me Oppure Disattivando Il gettone rubino Raccolgo Dalla statua Collegata Alla tessera Su cui mi trovo In quel momento Non faccio niente E riattivo Tutti quanti i miei rubini Inoltre è anche Molto molto veloce Perché una partita Veramente Ti può durare Ma dieci minuti Proprio Ci metti Forse Tanto tempo Setta a fare Il gioco Che a fare Poi effettivamente La partita Proprio perché È molto rapido Però è molto carina È molto simpatica La meccanica Del push or luck Secondo me Che è inserita All'interno del gioco In quanto Quando noi andremo A rivelare La frutta Da alleggiare Noi possiamo Rivelarne Quanta ne vogliamo Cioè di tutta Quella che noi Abbiamo attorno Ma se troviamo Due frutti uguali Non possiamo raccogliere Nulla E quindi Visto che però Vince il primo Che raccoglie Tutte otto Quelle di un tipo Tutte quattro Quelle dorate Hai voglia di Dai Ne giro ancora una Perché se mi dice bene Mi porto un passo avanti Rispetto all'altro E inoltre la mappa Essendo Però ti dice male In quel caso Non raccogli niente E anche essendo La mappa piccolina Hai anche la possibilità Di andare ad ostacolare L'altro Mi vado a mettere lì Dove magari giro Una giara in meno Però gli blocco Il passaggio a lui Che dopo sarò obbligato A tornare Passare dall'altra parte Dove c'è meno roba Da raccogliere E Molto molto piacevole Sì Sono tutti molto carini Molto anche Molto catchy Dal punto di vista Della grafica E dei materiali Sono Sono belli Anche questo qua lo è E giocabile Tranquillamente La scatola Se non mi sbaglio Dice dai sette anni in su E tranquillamente Anche giocabile Secondo me Un pochino prima Con bambini Già un po' più abituati A giocare Noi Giulia e Nicolò L'hanno già anche Voluto giocare Figurati Ci hanno visto Senti due scimmie Anche perché poi Tutti i giochi di questa serie Li abbiamo messi comunque Nelle loro librerie Dove loro li possono andare a prendere Anche se appunto Alcuni non li sanno Ancora giocare Minimamente con le regole giuste Perché sono un pochino Più complicati Però già solo questi materiali Da muovere Tutti questi animaletti Sulle planche Gli piace un sacco E anche questo Ha fatto sicuramente Il suo lavoro E comunque seguiti Dicendogli Ah no aspetta lì Non puoi andare Oppure lasciandoli anche Muoversi un pochino Più liberamente Però comunque Lo riescono anche loro Già Giochicchiare Loro hanno molto Il giro Giro mi va bene No non mi fermo Però Però non capita differenza Tra quella dorata Tra quelle blu e quelle verdi Sono giochi Esatto Sono giochi Sembrano molto piacevoli Anche comunque Giocati da Anche se un set e più Giocato tra di noi adulti Te lo godi tranquillamente Ti puoi anche appunto Come dicevo prima Magari fare qualche Piccola cattiveria in più Sul mi piazzo lì Così ti blocco il passaggio Di là Ti tolgo questo Che anche se a me non serve Per evitare che tu Riesca a farti il set E vincere Proprio piacevole È stato È stato molto carino E siamo contenti Di averlo giocato Abbiamo finito già Sì Che figo E finisce così La nostra settimana ludica Prima Stavo pensando Quale altro gioco Dobbiamo ancora parlare Se volete Mi possiamo parlare No no È finita la nostra settimana ludica Ma prima di salutarvi Vi ricordiamo Vi ricordiamo che lunedì È uscito il gameplay Di It's a Wonderful Kingdom Quindi se non l'avete ancora visto E volete vedere Quanto sono brava in questo gioco Andate a recuperare il gameplay E mercoledì invece È uscito il gameplay Di Turn on Taxis Titolo un classicone Che ci è stato richiesto Dai nostri patron E quindi Li abbiamo contentati Lo abbiamo portato E siamo sempre contenti Di portare dei giochi classici Sul nostro canale Assieme a tutte le novità Che tutti aspettate Però ci piace anche Fare questi giochi E quindi Perché a noi piacciono Esatto E quindi cerchiamo Di portarvene sempre E grazie ai patron Che ogni tanto ci dicono Ma perché non fate Quel gioco così vecchio Di cui nessuno parla mai Toh Ciapalia Andate a vedere Il gameplay di Turn on Taxis Noi davvero Come sempre Vi ringraziamo tantissimo Per essere stati con noi Restate connessi Così ci sentirete parlare Di Micro City One Small Step Di Annunaki Ne parleremo Sì state tranquilli Sì faremo il gameplay Sì non vi preoccupate Ma a tempo debito Come sempre Noi nel frattempo Vi ringraziamo tantissimo Per tutto quello Che fate per noi Vi ricordiamo Che qui a Casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco sia con voi Ciao 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 Ciao